Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo l'ASC quinta Da quanto tempo fate equitazione? Allora, la faccio da quasi 4 anni 8 4 in uno e uno in questo 6 Avete animali domestici? E' partito il mio cellulare Si deve abbassare il volume Fail, fail Ok Avete animali domestici? Si, allora Un gatto Un cane Un gatto Si, ho due cani e un coniglio Si, ho Coniglia Caratina Si, ho tre gatti e un cane Io avevo un cane mai morto Come si chiamano i cavalli che montate? Joy Fior deliso Chimera Nick Avete mai fatto cross country? No 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 Però sarebbe più Manto preferito? Tutti Bio chiaro No, bio Bio chiaro perché Io ho nero scuro e poi grido Si, ancora Nero Autunno Autunno Primavera E' estate Sì Non è tutte No Sentite me Primavera Estate E' inverno Colore preferito? Fucse Grigio e grigio e nero I colori del mare Azzurro Grazie Nero 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 Un bacio Preferite biscotti o carote? Io carote perché è più salute No, dai facciamo No, no, no Preferite biscotti o carote? Carote Però c'è E' lì, sono tocca Carote Sono verdi No Sì Quanti anni hanno ai vostri cavalli? Ne è nove quest'anno C'è nove Diciannove Cinque Non lo so Non ho ancora vista la carta di identità Eh 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 Avete il trope o agnellino? Sì No Ma dite Lissa Davvero Sì No Farete il video delle nostre cose per cavallo Se lo volete va bene Mi potete salutare Vi adoro Ciao Noe Milici 3 settimane fa Quanti maneggi avete cambiato? Allora io prima andavo tipo con Emma In questo maneggio qua dove facevamo le passeggiate Al galoppo e poi sono andata In questo qua 2 C'è uno vecchio e questo 2 Da quanto tempo vi conoscete? Allora io la Emma da più di 10 anni Perché facevamo anche l'asilo insieme Io e lei dal 10 dicembre 2016 15 10 2010 va bene E te? Tipo Eh basta E io con te Avete intenzione di fare incontri se si dove? A Fiera Cavalli Verona di quest'anno Farete vlog anche cavallosi Allora Questo posso spiegarvi io Allora l'abbiamo già fatti Però poi l'abbiamo tolti perché non possiamo far vedere i nostri cavalli solo in foto Perché la nostra studio dice non vuole Mi potete salutare? Ciao 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 Quanti sottosella avete? Matilde Marras Sei Sei? Due Quello giallo Tra voi Chi è la più grande? Io Io Quando sei nata? Il 4 giugno Tu 17 settembre Avete mai litigato? Avete mai litigato? Il 17 agosto Quindi Avete mai litigato? E lei è a 12 anni Sì ma per delle cacchiate Ma invece 14 quest'anno Comunque sì abbiamo litigato Ma per delle cacchiate Sì Ma per delle cacchiate Ma non livelli di Non gramissimi No livelli di Avete mai litigati? Sì ma eh A quale giorni alla settimana? Ah Eh quasi tutti i giorni Tranne lunedì e la domenica Sì Sì Tutte E poi tranne Sì la lunedì e la domenica Mi potete salutare? Ciao Giuliana Ciao Giuliana Ciao Dai Leggi tu questo Leggi tu questo Dai Eleonora 04 Allora Ciao Iniziamo da Ciao Eleonora 04 Ciao Sono cella che si saluta Zitta Farete i video delle vostre grooming box? Sì lo faremo La vabbè già fatta? Eh ma l'abbiamo cancellata Ciao 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 Qual è il vostro cavallo dei sogni? Joy 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 Ciò penne per la gioia della Matilde Dai vai Cassino per la gioia della Matilde Dai Dai Poi qual è il primo cavallo che avete montato nella vostra carriera di equitazione? Che problemi? Basta orno Ragazzi Ragazzi Qual è il primo cavallo che avete montato nella vostra carriera di equitazione? Abbiamo montato Io ho montato l'arina Che è una cavalla pezzata Sì vabbè Tagli Poi Io nel mio primo maneggio in questo Questo Oh la prima Ti ha detto la prima Un cavallo macchiato Come si chiamano? Lampo La montata bianchina E pioggia Allora Io invece Mandiga E poi Joy 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 Pure io come seconda Mandiga Dai Ehm Ehm Bé Lesi tutto Ciao io Ho poche domande Uno Quando farete un incontro Lo vorremmo fare a Fera Cavali Verona Li Già detto prima però Due I vostri genitori sono d'accordo con la vostra carriera Sì C'è il mio nome Poi tu Elisa A me non sarebbe boh Sì Però lo sanno Sì Mia mamma Mi potete salutare Eh ma ora che tocca anche a noi Lei l'ha detto E tu no Eh Oh Allora Io Mia mamma gliel'avevo detto Il mio papà però non lo sa Quindi Qui c'era Come fa la mia coppaglia Ma nemmeno il mio solo La mia coppaglia Vabbè dai Mi potete salutare Siete fantastiche Grazie mille Ciao Aurora 060407 Ciao Aurora 060406 0407 Poi Andrea Non si sa chi è Andrea Vediamo Ma nessuno si sa chi è Ok dai Punto Siete mai cadute da cavallo Sì due volte con Joy E una con un altro cavallo Sì 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 La caduta più epica Eh ma non mi aspetta Vai Allora Con Alice Sì sì Dai Allora Allora Io ce la do Allora No nessuno ti l'ha Non pensavo mai Allora Sono femmina pura Vabbè Allora Io Sono caduta Una volta da Joy Una volta da Presidia Però la Presidia Sì E poi Una volta da Rina Rina Ok Avete mai visto Poledro nascere No però Il giorno dopo L'abbiamo visto subito Che era lì Sì Cioè Nascere In un certo senso Sì perché Cioè non è che Non è che Mi hai visto Che è uscito Quando farete un raduno L'abbiamo già detto Mi potete salutare Vi aforo Dai Vi adoro Siete le migliori In tutto Grazie mille Andrea Ciao Andrea Andrea Siete pro o contro Il chiudibocca Allora il mio cavallo Il cavallo Ce l'ha il chiudibocca Quindi non so Se sono contro Sio no Perché comunque Dove dire Sio no Nemmeno Non sono contro Boh io non lo so Cioè io In un certo senso Cioè se devi Se vuoi montarlo Montarlo bene Cioè se gli serve al cavallo Cioè serve Non sono contro Io però Siete mai cadute Sei Sì Non è vero Siete pro Eh no perché Allora Allora Speroni o frustino Io non li uso Quindi Non lo so Niente Boh Frustino Io Che mangio preferite Ancora Se dovreste scegliere Dressage Salto ostacoli O cross Salto ostacoli Salto Salto ostacoli Andrete a Fiera Cavalli Roma No No Troppo lontano Vabbè forse Boh dipende No E vabbè Magari in futuro Più grandi Quando avremo mille iscritte Quindi è arrivata mille iscritte Così arriviamo Sì Mi potete salutare Ciao Ginevra Ciao Ginevra Emanuela dice Emanuela dice Mi potete salutare Ciao Emanuela Ciao Manu Non è il mio sorello Allora salutiamo I love Ors 15 Ciao Giulia Ciao Giulia E poi Cavalli Un amore unico Che si chiama Ilaria Ciao Ilaria Ciao Ilaria Ciao Ilaria 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 Ciao Ilaria E poi Luca Cattaneo Ciao Luca Speriamo che l'ASK vi sia piaciuto Ovviamente se vi è piaciuto Lasciate un like Grazie mille per i 200 iscritti Allora seguiteci su Instagram Vabbè lo sono già Al prossimo video Ciao Ciao Ciao